Questo albero dei cacchi fu realizzato da Maria Galfrè nel 1993 ed è una sorta di metafora dell'esistenza perché sui rami dell'albero pendono dei cacchi ancora freschi, dei cacchi maturi e dei cacchi che sono destinati ormai a cadere. Maria Galfrè aveva realizzato questo albero in memoria del fratello Giorgio Bonelli.